Il professore Pietro Busetta, nel volume Il lupo e l'agnello, dal mantra del sud assistito all'operazione Verità, riprende i temi della questione meridionale e ne esamina, con sguardo critico, l'evoluzione, ma meglio sarebbe dire l'involuzione, ponendo l'accento sugli ingenerosi equivoci, artatamente costruiti e perpetuati anche da una pubblicistica nordista, secondo cui il meridione d'Italia, incline allo spreco, sarebbe la palla al piede del settentrione produttivo e attivo. Una visione che ha finito per opporre la questione meridionale ad una inesistente e surrettizia questione settentrionale. La presentazione dei libri è organizzata in collaborazione tra Alliance Club e Ordine dei Commercialisti e presente il professore Busetta vedrà l'intervento di economisti e docenti universitari. Cosa vi attendete all'intervento del professore Busetta? Intanto, secondo me, è una metafora bellissima di quello che è il dualismo italiano, di quello che è stato dal 1860 ad oggi. Come tu hai detto, è un bel libro, ha un carattere scientifico e allo stesso tempo divulgativo. Le aspettative nostre come commercialisti sono quelli di sensibilizzare intanto i colleghi, che secondo me devono avere un ruolo ancora più presente nell'ampio della società, perché noi siamo portatori di conoscenza e competenze che sono utili per creare anche quella classe dirigente che Pietro Busetta dice che manca nel mezzogiorno d'Italia. Noi siamo stati vittime, dal mio punto di vista e anche complici, di una classe dirigente estrattiva che più che pensare al bene delle future generazioni ha pensato ad alimentare un clientelismo per la propria sopravvivenza. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i colleghi. Possiamo avere un ruolo importante in questo piano nazionale di ripresa e resilienza, dove i commercialisti sono stati individuati dal Ministero della Funzione pubblica come soggetti che possono dare un proprio contributo come assistenza tecnica, sia per quanto riguarda la programmazione degli interventi, per quanto riguarda il monitoraggio, per quanto riguarda la rendicontazione. È una grande opportunità, ma soprattutto secondo me è un dovere morale e civico mettersi a disposizione della comunità per chi ne ha veramente bisogno. Scrive nella prefazione Adriano Giannola, presidente di Svimez, che il professore Pietro Busetta rivendica, evocando la favola del lupo, il nord e l'agnello, il sud, il diritto all'eresia, a uscire fuori dal coro. Il testo trasuda in pazienza e in sofferenza, propone scorciatoie ardite ed efficaci, evita di attardarsi sulla banalità che alimentano letture e recriminazioni impregnate di consolidato conformismo alla moda, oggi chiamate narrazioni, che godono immeritata popolarità. Busetta procede con tecnica da guerriglia, affondi e rapide incursioni in un crescendo che fa intravedere perché non è da considerarsi scontato il destino dell'agnello meridionale.